Grazie a Luigi Castagnetti, grazie anche per la passione del suo intervento, Franco Monaco, prima di Michele Nicoletti. E ora di cena, effettivamente sì, ora di cena. A Roma, a Roma no? No, allora proprio solo qualche battuta. Da testimone, non da studioso, da maestro, come altri amici autorevoli che sono intervenuti. Testimone anche della circostanza, perché eravamo esattamente noi tre, se non ricordo, vero Enzi? Della promessa che hai onorato con vent'anni di ritardo, e io ricordo anche l'apprezzamento, la gratitudine di Don Giuseppe di cui c'è traccia, in questa lettera autografa che sta in apertura del volume, in cui Don Giuseppe mostrò di gradire questo impegno che Enzo assunse a rieditare finalmente un testo con tutti i crismi, soprattutto correggendo quegli errori, che sono errori minimali, ma essendo Dossetti un perfezionista, anche dal punto di vista filologico, ancora da vecchierello non aveva digerito questa, diciamo, che questo testo fosse girato largamente, editato più volte, ma infarcito di questi errori e proprio di trascrizione. Ma, dunque, io avrei fatto, ma non lo faccio qui più, per l'amor di Dio. La seguente osservazione, ripeto, da testimone è che lo ha conosciuto solo negli ultimi suoi anni. Dunque, Dossetti obiettivamente era una figura carismatica, diciamo, affascinante, intanto perfino circonfusa di una qualche mitologia, diciamo, no? E' anche una figura che ha diviso allora, che se ho capito bene, ma noi siamo arrivati tardi perché eravamo impegnati alla Camera, in pratica meno edificanti, diciamo. Ma, diceva, quindi mi sono perso la prima parte dell'intervento di Ernesto Galli della Loggia che ho inteso, come del resto un po' immaginavo, anche critico, diciamo, qualche spunto critico, giustamente. Una figura che divideva allora e che in qualche modo divide oggi. Una figura, però, non ininfluente, credo su questo siamo tutti d'accordo, nella formazione, come si può dire, di più generazioni del cattolicesimo politico. Quindi, poi, il segno di questa influenza può essere positivo o negativo, ma non, quindi, una figura la cui aurea mitica lo consegna alla, come ti può dire, alla oleografia, ma che ha avuto e ha, credo, forse ancora una influenza che ancora oggi, diciamo, fa a discutere, che ha forgiato, dicevo, o con cui si sono misurate criticamente più generazioni, diciamo, del cattolicesimo politico. E una figura che aveva questa caratteristica, se io non ricordo male, intestataria di un pensiero in cui il nesso, contrassegnato da un nesso tra teologia e politica, cioè una cultura teologica che insieme, diciamo, si saldava con una cultura politica. Allora, io avrei voluto fare il seguente ragionamento che non farò. È chiaro che questo testo è un testo, l'hanno riconosciuto, se ho capito bene, ma vi ho preso per la coda, entrambi, che è segnato da un limite, forse anche due. Uno, quello della sua datazione, perché è vero che nel pensiero politico di Don Giuseppe soprattutto del Dossetti, diciamo, d'Antan, c'è questa centralità del partito e dello Stato. Ma è vero che, diciamo, questa centralità va anche, diciamo, situata storicamente. Diciamo, poi si è andati avanti, diciamo, nella riflessione politica, politologica. E poi forse un altro limite, ma questo, diciamo, immanente al contesto proprio, diciamo, dei suoi interlocutori, era i giuristi cattolici, cioè una rappresentanza assolutamente qualificata, i nomi che sono risuonati qui sono nomi eminenti, ma lui si indirizzava però a una rappresentanza qualificata della cultura cattolica. Quindi anche questa enfasi, ecco, anche, mi permetto di difendere Enzo anche sul titolo, diciamo, che i titoli si fanno anche per vendere, diciamo, ma perché, diciamo, l'accento, questa valorizzazione dello Stato, perché muoveva dalla, che si trova in altri testi di Dossetti, dalla consapevolezza che per ragioni storiche e anche forse teologiche ben note, è un luogo comune ma ha un fondamento, la cultura cattolica sconta un certo pregiudizio antistatuale. Ecco, in questo senso, penso, bisogna anche fissare i limiti. Dopodiché, e qui era il tema che è vero che intorno a questa figura mitica e affascinante e controversa quanto al giudizio, sono fiorite anche, come posso dire, leggende prive di fondamento, cioè, delle rappresentazioni anche un po' caricaturali di Dossetti. La prima, mi ricordo, ma quella, grazie a Dio, vedo che è un po' tramontata, è l'integralismo di Dossetti. Lì, i primi storici che se ne occuparono come Dio comanda, prima Campanini e poi soprattutto Paolo Pombeni, che ci è tornato sull'anno scorso, in occasione del centenario della nascita, hanno smontato questa accusa. C'è in Dossetti un elemento di radicalità, che è un'altra cosa. Allora, dice poi radicalità evangelica, che può perfettamente convivere con la mediazione politica. Tant'è vero che De Gasperi amava chiamare i dossettiani i miei radicali. I miei radicali. Quindi il dossetti integralista, ma questo è alle spalle. Anche, ma qui non dico, insomma, già Pierluigi Castagnetti, ma prima ancora, se ho inteso bene, il professore Cigno, anche il luogo comune dello statalismo di Dossetti. Pierluigi ha fornito altre pezze d'appoggio. Ma a me basterebbe osservare che l'ordine del giorno d'ossetti del dicembre 47, settembre 47, è giusto, del settembre 47, che peraltro è l'ordine del giorno che quasi alla lettera rifluisce nell'articolo 2 della Costituzione della Repubblica, e che per i costituenti di parte cattolica era l'articolo architettonico, non l'articolo 1. No, dal punto di vista dei costituenti di parte cattolica, l'articolo cardine dell'edificio costituzionale è l'articolo 2, in cui stanno, appunto, l'ispirazione personalistica e, diciamo, pluralistica. Potremmo dire il principio di sussidiarietà, che noi meniamo vanto di avere introdotto nella revisione del titolo quinto, che adesso invece è diventata una sciagura, diciamo, anche esagerando alla rovescia, ma c'era già in nuce concettualmente nell'articolo 2. L'articolo 2 incorpora il primato della persona sulla società, della società sullo Stato. Quindi, insomma, è veramente un luogo comune. Per non dire del dossetti conservatore, ecco, qui ti ho preso, Ernesto, per la coda. Io suggerirei, ma lo dico proprio in amicizia, di rileggersi anche i testi dell'ultimo dossetti. Il dossetti conservatore. Guardate che in quei testi, io ho curato una edizione da lui autorizzata, l'unica, anche lì mi fece sudare le sette camicie perché doveva corrersse le bozze, ma mi fa impazzire. Ma guardate che non era poi così conservatore. Se voi lo leggete con cura, lui naturalmente era, come dire, cioè non era inclinato al feticismo costituzionale. Lì mette in fila, e sono poi i titoli che sono ancora all'ordine del giorno, le riforme buone e sostenibili dal punto di vista della loro compatibilità con i principi fondamentali. Anche lì va un po' contestualizzato. Lui contesta il riformismo in consulto, diciamola così, un po' superficiale, un po' approssimativo. Io vi segnalo che in quel tempo, in quelle ore, in quei giorni, vi operava la commissione Speroni, in nome è una garanzia. E tutta quella retorica federalista di cui col tempo abbiamo misurato anche i limiti, in cui siamo incappati anche in tanti, un po' corrivi con questa retorica. Quindi quei testi aprono a un riformismo sostenibile e compatibile con la cura di custodire i principi fondamentali. E' vero tuttavia, questo è vero e va riconosciuto, che l'ultimo Dossetti, quello che si impegna nella sua ultima battaglia per una difesa attiva e creativa della Costituzione, ecco, riscopre il profilo liberale del costituzionalismo. Quello è vero. Rispetto al costituzionalismo, come si può dire, democratico-sociale del primo Dossetti, del Dossetti Costituente. Perché il contesto suggeriva anche questa sensibilità. Credo, c'è la signora Paola, c'è ancora la moglie di Leopoldo Elia. Ecco, era un'osservazione molto fine, come sempre, che fece, io ricordo, in una circostanza il suo marito, dicendo, sì, è vero, l'ultimo Dossetti riscopre la vena, diciamo, l'anima, la curvatura liberale del costituzionalismo. Quella che mette l'accento sulle galanzie, sui bilanciamenti. Guardo Zanda, perché avete a che fare anche adesso con quelle materie. Va bene. Però non era tutto, e quindi detto questo, non era inconsapevole dell'esigenza di un aggiornamento e di una riforma puntuale e mirata di alcuni titoli della Costituzione. E da ultimo, ma questo l'ha già detto qualcuno, quindi qui mi pare che abbiamo sgombrato il campo da questa quarta rappresentazione caricaturale, lui non era incline a un parlamentarismo retro e classico. Si è detto che erano, sin da allora, contrari al bicameralismo paritario. Mi pare che dica bicameralismo integrale, integrale. Ma tutto il gruppo di cronaca sociale era per il monocameralismo in senso politico, diciamo, quindi attualissimo anche in questo modo di vita, ed era perfettamente convinto il Dossetti, certamente più quello costituente che non l'ultimo Dossetti, dell'esigenza di correggere le distorsioni e le degenerazioni del parlamentarismo classico. C'è un passaggio di quel testo, finito, in cui dice addirittura che è quasi esaurito quel parlamentarismo. Esaurito, credo usi questa espressione. Ma è chiaro perché se lui mirava uno Stato che coltiva addirittura l'ambizione della riformazio del corpo sociale, ne avete discusso, poi ce ne è che, aveva bisogno anche di un esecutivo autorevole, stabile e forte, ed erano anche loro consapevoli dei limiti del parlamentarismo classico di stampo liberale. Quindi anche questa rappresentazione di un Dossetti così inconsapevole dell'esigenza di governi, diciamo appunto autorevoli, stabili e in condizioni anche di produrre un rifarmismo audace e forte, è appunto una caricatura. Grazie a Franco Monaco, chiedo scusa un minuto solo a Michele Nicoletti perché Ernesto Galli della Loggia ha chiesto tre minuti, tre, perché molto tardi, credo che abbia diritto di dire la sua su alcune cose. Credo che sia stato sbagliato l'idea di fare una presentazione, bisognava incontrarsi a casa di qualcuno, sarebbe stato molto più semplice, avremmo avuto più tempo. Ma visto che ci siamo, però, tre minuti per rispondere vorrei avervi. Ah, ma scusami, non c'era un percorso? Sì, e poi iniziamo a chiedere un percorso, dai. No, no, meglio a Gesù. Scusami, facciamo un terza persona? Il filo di Michele. Come sarebbe? Tu sei il Presidente del gruppo parlamentare e fai... Ma tu vai, mi chiedi la parola, ci vai. Dove è finito il parlamentarismo? Grazie. Cerco di sottolineare due o tre punti che mi sembrano cruciali nella lettura di questo testo, dal punto di vista storico, e che secondo me rendono un po' ragione anche di queste espressioni, che sono piuttosto aspre, lette nel contesto di un dibattito politico successivo, ma che dal punto di vista del contesto storico, come è stato detto, ma anche disciplinare, perché Dossetti parla da giurista e con una metodologia di tipo storico, a mio modo di vedere si spiegano. Lo Stato fa la società è dentro una relazione che parte dalla vicenda dello Stato moderno e che mostra l'evoluzione in senso liberale di questo Stato moderno. Ora, per lo Stato moderno, che esce dalle guerre civili di religione, secolo XVI, XVII e XVIII, lo Stato fa la società e quanto la storiografia, come dire, europea, contemporanea, quella costituzionale in particolare, ha acclarato da tempo. Penso ai tre volumi curati da Schiera e Rotelli, non a caso forse scuola, università cattolica. La società del Settecento è il frutto dello Stato. La società francese, Dossetti cita Tocqueville, l'Ancien Regime e la Rivoluzione, quello che è stato il fattore di trasformazione della società francese moderna, è lo Stato assoluto che crea la società degli individui, la società, questa forza di uguagliamento. E Dossetti ha in mente questa capacità formatrice, quella che i tedeschi chiamano la gestaltung, appunto, dello Stato nei confronti della società, e a cui lo Stato liberale, ottocentesco, novecentesco, ha in un certo senso rinunciato, perché quelle premesse che lo Stato assoluto aveva posto, paradossalmente, dell'uguagliamento, cioè la società lombarda del Settecento, chi la crea? La società, io sono trentino, insomma, quando si dice la società civile, è stato l'impero. Allora, da questo punto di vista, questa espressione così forte, che noi la leggiamo, come dire, a mio modo di vedere, non a caso Marinelli, lo ricorda Balboni, dice, ma insomma, qui Dossetti ha qualche nostalgia dello Stato dell'ancien regime, ma non in senso, ma nel senso del rapporto, come dire, tra Stato e società, ma è quello che noi diciamo oggi, quando lavoriamo sui processi di costruzione della democrazia, forse che noi non diamo un valore alle istituzioni, anche a livello internazionale, come strumento anche di costruzione della società. Seconda questione, il finalismo dello Stato. Anche qui è giustissimo rilevare che ci sono dei problemi, ma intanto c'è, come dire, un tomismo che crea qualche problema, anche a Dossetti sul piano antropologico, sul tema della libertà, e Balboni lo rileva. Però qui c'è anche una riflessione post-totalitaria della cultura liberale. Io penso ai giuristi tedeschi, Radbruch, come hanno messo in luce la debolezza del relativismo e del formalismo di fronte allo Stato totalitario, cioè di uno Stato concepito come pura forma, che si può anche prestare a negare quei presupposti da cui era partito, cioè i presupposti della libertà e dell'uguaglianza. E quindi un finalismo dello Stato, io lo leggo in questo senso, come appunto ricondurre lo Stato alla sua propria finalità. Lo dice Bavan nel dibattito, che è quella di costruire delle condizioni di possibilità all'interno delle quali le persone possano liberamente perseguire in libertà e uguaglianza il bene comune che loro individuano. Su questo, quando parla Dossetti di Reformazio, nella replica, lo mette in connessione con l'articolo 3. Questa è per lui la Reformazio, quello che è un dovere giuridico dello Stato. Reformazio, il termine, può essere forte, può non piacerci, ma è la rimozione degli ostacoli, cioè il riequilibrare le grandi disuguaglianze. Su questo, le pagine forse più interessanti, è vero, attuali, sono quelle sul rapporto tra diritto ed economia, con la critica al concetto di persona collettiva che questi soggetti privati produrrebbero da sé e questo in discontinuità con la storia precedente. E chiudo. Allora, io su questo tema, personalmente, se noi lo storicizziamo, ci vedo questo Stato che non è appunto la statolattria, lo Stato dello statalismo socialista, eccetera, ma è lo Stato della costruzione dell'uguaglianza di possibilità. Quanto di più, come dire, democratico ci fosse sulla scorta delle riflessioni di quegli anni, sul capitalismo e democrazia, su quello che noi abbiamo recuperato. E da questo punto di vista, e non abbiate paura dello Stato, io voglio ricordare che il rapporto della teologia e della filosofia cristiana nel Novecento con lo Stato è stato un rapporto molto problematico. Negli anni Trenta c'era chi diceva, per fortuna non parliamo più di Stato, ma di impero, perché lo Stato è un concetto pagano, o forse più caro, diciamo, alla tradizione protestante, ma invece appunto l'impero, il Reich e così via, ci riporta alla tradizione più vicina, a tradizione medievale e così via. Quindi questo era un elemento di riconciliazione anche della filosofia, dell'autologia cattolica europea con lo Stato, penso abbi che in Germania siamo lì vicino, come dire, a riconoscere nello Stato qualche cosa che non era un nemico né della Chiesa né della coscienza personale, ma appunto il garante di questo nuovo ordine. Sì. Naturalmente sono sicuro che nulla di quello che io dirò convincerà minimamente i dosettiani, perché si è capito benissimo che c'è un rapporto di intrinsichezza biografica che non può essere distrutto da nulla, insomma, l'esperienza è come aver fatto la guerra insieme, insomma, sono quelle cose che rimangono per sempre. Ah, ma io rispetto moltissimo, io sono, diciamo, sì, però, insomma, il mio obbligo è quello di sostenere le mie opinioni, quindi, bene, comincerò a sostenere le mie opinioni. E' verissimo che la società ha fatto lo Stato, ma per l'appunto, cioè che lo Stato ha fatto la società, ma era per l'appunto lo Stato assoluto. Era lo Stato assoluto. Dalla rivoluzione francese in poi le cose sono cambiate, ti rimando al libro di Cosellec, che è decisivo su questo. Dalla rivoluzione in poi la società ha rivendicato i suoi diritti contro lo Stato, ha rifiutato, almeno, diciamo, schematicamente parlando, non si può assolutamente proiettare il pre-rivoluzione francese su quello che è dopo. Lo Stato difende i diritti, lo Stato di diritto tedesco, intriso il gius positivismo, non può difendere, ovviamente, i diritti contro un'autorità che li vuole distruggere, perché il suo principio, il gius positivismo, è per l'appunto che l'autoritas facit legge, quindi se l'autoritas nazista farà legge, il cittadino se la vede lui. Ma, qui mi ricollego ad una cosa che ha detto l'onorevole Castagnetti, cioè, di sottolineare una particolare brillantezza e autonomia e eccezionalità rispetto al pensiero liberale nel momento in cui Dostetti chiede che l'articolo 2 sia la Costituzione ricordata. Ma questo è il più puro gius naturalismo della rivoluzione francese. I diritti dell'uomo e del cittadino erano appunto il riconoscimento dell'esistenza di diritti che erano precedenti a qualunque forma di stabilimento di legislazione. La società, gli uomini nascono liberi uguali. Il gius naturalismo che, diciamo così, forse ha qualche cosa a che fare con il liberalismo, penso di sì. Il gius naturalismo è il primo che, recependo un messaggio che è il messaggio cristiano, questo, il gius naturalismo è il terreno elettivo d'incontro tra liberalismo e cristianesimo, perché entrambi pensano appunto che alcuni diritti fondamentali precedono qualsiasi statualità, qualsiasi società politica. Una società politica non può fare altro che riconoscerli. Ma in questo, tra appunto un liberale classico ottocentesco e Dossetti non c'è nessuna particolare differenza. Dossetti non innuva niente, non ha nessuna particolare... Ha fatto benissimo scrivere quella cosa e li riconosce, perché è così. Un vero liberale, appunto, io appunto la penso almeno così, non si riconosce nel gius positivismo. Un vero liberale non vuole avere nulla a che fare con Kelsen, questa è la mia opinione. Quanto al fatto appunto che Dossetti considerasse la cultura liberale o arcaica così. È verissimo, la cultura liberale italiana era rimasta paralizzata anche per gli effetti del fascismo, eccetera. Ma non è che la cultura italiana cattolica non fosse, non dovesse qualche cosa al codice di Malin, a Maritain, cioè anche la cultura politica italiana cattolica non mi pare che avesse dato particolari prove di brillantezza negli anni 20-30. Insomma, se la cultura cattolica liberale era rimasta ferma direi che anche quella cattolica, insomma, tant'è vero che quando ricomincia si riabbeve la tutta da Montini fino appunto a Dossetti si riabbeve la tutti quanti ai francesi. Gli unici moderni, bisogna riconoscerlo, sul piano diciamo democratico liberale erano la cultura degli azionisti. In particolare della destra operazionista che a Milano faceva quella rivista bellissima che era Stato moderno, quella era l'unica cultura italiana che in qualche modo non sono così capace di ripercorrere i percorsi per cui, però lì ci sono invece appunto delle cose molto moderne lette oggi, ma erano appunto assolutamente gli unici. Cos'è la democrazia sostanziale? Cosa vuol dire la democrazia sostanziale? Che cos'è? Una democrazia che riguarda tutti i cittadini, ma certo la democrazia riguarda tutti i cittadini, perché c'è una democrazia che non riguarda tutti i cittadini? Cioè, non bisogna, io penso che in queste discussioni noi siamo molto spesso prigionieri di formule che ci sembrano immediatamente esplicative, ma che in realtà non vogliono dire molto, se no delle cose non precise. Cioè, la democrazia sostanziale è quella che stabilisce l'eguaglianza economica tra i cittadini, ma non è questo quello che pensava Dossetti, non è quello che pensa. E allora che cos'è la democrazia sostanziale? Qual è l'azione dello Stato che promuove la democrazia sostanziale? Poi dello Stato, delle forze politiche che guidano lo Stato, perché qui c'è sempre questo fatto che Dossetti adopera sempre questo termine lo Stato, lo Stato, ma perché non dice noi come cattolici politici impegnati in politica dobbiamo fare questo? E quindi naturalmente se vinciamo le elezioni siamo al governo, perché c'è sempre quest'idea invece della, non viene mai pronunciata la parola appunto cattolici, cattolicesimo politico. Dossetti non dice mai il cattolicesimo politico deve fare questo e questo e quello, perbacco, ma lui era appunto il vice segretario del partito fino a pochi mesi prima, si può dire, invece era sempre lo Stato. Allora, io penso appunto che ci sia una declinazione statalista, ma in tempi certo di liberismo selvaggio attuali può sembrare un'eresia terribile da cui difendere Dossetti. Io penso per esempio che oggi come oggi in Italia ci voglia una forte ripresa dell'azione dello Stato. Io penso perfino nell'economia, pensate un po', mi dicono sono stati di... Sì, certo, ma la politica ha sempre... Se la politica non può agire attraverso lo Stato che cosa si sta a fare la politica? Insomma, la democrazia è uno Stato che per esempio riequilibra attraverso il fisco le fortune dei cittadini. È certo che lo Stato è lo strumento principale della politica e della democrazia. Quindi non c'è nessun problema di... Però io penso invece che quando Dossetti finisco subito, quando Dossetti usava la parola Stato la caricava di una diciamo così di enfasi la declinava in un modo che andava oltre cioè andava nel senso di immaginare appunto una società che potesse riconoscersi integralmente nella statualità nella Stato nell'azione pubblica diciamo così in questo senso la rifondazione cattolica della società così come la società il cattolicesimo è un universale comprende tutti così immaginare una forma politico statale in cui tutti potessero riconoscersi peccato che la democrazia però rende questo impossibile perché la democrazia frantuma produce individualità soggettività differenzia in maniera radicale e quindi rende impossibile qualsiasi ricomposizione di questo tipo grazie Allora abbiamo fatto molto tardi quindi vedevo dal viso di Castagnetti che voleva rispondere non possiamo farlo è stato però veramente molto molto interessante un dibattito molto interessante un libro prezioso importante abbiamo avuto interventi tutti quanti interventi di grande qualità grazie a tutti so che ci saranno altre presentazioni quindi il discorso proseguirà grazie vedete chi sparava da mia parte non sparro in parte no assolutamente ma io sono appassionatissimo grazie a tutti grazie a tutti